E' nato un evidente ridimensionamento della sanità triestina attraverso un nuovo sistema di finanziamento che ha penalizzato questa città. Grido d'allarme dei sindacati sulla sanità triestina, le sigle di categoria di CGL CISL, Will, FIALS e NURSIND hanno inviato una lettera al neopresidente della regione Fedriga per invitarlo ad affrontare subito quella che mai come quest'anno si prefigura come una vera e propria emergenza. Con il personale ridotto all'osso la mancanza di fondi non consente di tenere aperti tutti i servizi con gravissime ripercussioni previste sui cittadini. Siamo in emergenza, comincia il piano ferie che è una delle emergenze, siamo di fronte a delle inevitabili chiusure perché abbiamo solo sul personale un buco di oltre un milione, il buco generale dell'azienda della Suiz è sopra i quattro, chiediamo una manovra straordinaria a Massimiliano Fedriga. Dalle voci che allarmano in questi giorni i dipendenti in corsia ma anche i pazienti ci sarebbero in programma tagli per circa 50 posti letto con circa 200 lavoratori in meno tra mancato turnover, donne in maternità e stabilizzazioni rimandate per mancanza di fondi. Noi siamo qui per chiedere sicuramente un inserimento di nuovo personale infermeristico e osso perché con le chiusure che faremo andremo solo a distribuire del personale nelle altre strutture. Noi invece abbiamo bisogno di nuovi inserimenti perché abbiamo delle criticità che emergono per esempio nel cardiovascolare, abbiamo 12 maternità. La riforma regionale anziché risolverli ha acuito i problemi della sanità triestina, dicono i sindacati, che oltre alla lettera a Fedriga faranno tre presidi per informare i cittadini in largo barriera nei prossimi martedì, mercoledì e giovedì dalle 16 alle 19. Due cose urgenti. Uno, il blocco dei tali dei servizi e una manovra statunaria di assunzione del personale per mettere il sistema in sicurezza.